Grazie Leodora, mi hai portato dei formaggi straordinari, faremo un casatiello stupendo. Ti credo, col pecorino di Carmasciano e il caciocavallo di Francesco Savoia verrà veramente buono. Fammi vedere tutti i tuoi trucchi. Allora, mettiamo la pasta, l'abbiamo preparata prima, lievitata. Aggiungiamo i bei formaggi, tutti fatti a tocchettoni, anche non tanto piccoli, vedo. E caciocavallo, così. Poi mettiamo la salsiccia stagionata, tagliata a pezzettini. Fondamentale i cicoli, di maiale, rigorosamente. Una cosa leggera. Un po' di grattugiato. Ok, sempre pecorino. Sempre pecorino. Passiamo dello strutto. Lo avvolgiamo. Lo chiudiamo. A ciambella. E lo mettiamo in questo stampo imburrato. Ok. Struttato, diciamo. Struttato. Guarda lì che bello! Ok. Poi mettiamo l'uovo sodo sopra. Appoggiato. Appoggiato. Poi va spedellato. Ah, con altro spedellato. Adesso lo inforniamo per 40 minuti a 180 gradi. e dopo ce lo baggiavo giù in grotta. Ah, fantastico! Ok. 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 Grazie a tutti.